Oggi vi mostrerò un sacco, ma un sacco di codici segreti di Roblox e questi codici vi faranno avere cose pazzesche Ciao a tutti dreamers, miei mattissimi sognatori, io sono Francesca e benvenuti sul canale Benvenuti in un nuovissimo video di... non giochi che ci regalano cose di Roblox ma codici segreti che ci regalano cose qui su Roblox e anche se sono brutte ce le prendiamo lo stesso perché appunto sono il regalo, oh yes voi lasciate un bel 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 mi piace adesso ragazzi per questi nuovi codici già un po' di tempo fa vi ho fatto un video del genere che vi è piaciuto un sacco e avete richiesto in tantissimi la parte 3 se non sbaglio quindi si parte subito con i codici con cose assurde ed impressionanti partiamo con due codici, siamo già qui sulla mia sezione di market del mio personalizza perché questi due codici che sto per mostrarvi sono ancora funzionanti potete ancora avere l'uccellino, ah vabbè facciamo così vi tolgo le cuffie perché altrimenti potete, no vabbè allora aspetta facciamo così potete avere l'uccellino di twitter e la spider cola ancora me le avete chiesti tantissimo soprattutto l'uccellino di twitter franci come si ottiene l'uccellino di twitter? come si ottiene l'uccellino di twitter? ve lo faccio vedere subito vi basterà andare qui sul sito di roblox.com slash redeem, ve lo lascio giù in descrizione inserire qui nella sezione codice questi codici il primo codice da inserire è spider cola, se inserite spider cola vi dice che ho già utilizzato questo codice perché vi da il ragnetto a forma di coca cola sulla spalla mentre se utilizzate il codice tweet roblox vi danno l'uccellino, questi due codici sono ancora validi poi dovete spostarvi su questo gioco isola del movimento anche qui abbiamo ottenuto diversi UGC in passato ma ce ne dovrebbero essere ancora tanti altri quindi io inizio all'andare sul gioco island of move ok si starà caricando? credo, immagino, spero invece no usciamo e rientriamo che si era buggato ok comunque questo è simile a giochi di roblox no ma che ha? non funziona proviamo a fare così server entriamo in un server qualsiasi magari così ok ok si era buggato allora qui bisogna fare questo ottieni premi gratuiti trova i codici e clicca per interagire allora il primo codice da inserire qui è questo alcuni codici io li ho già inseriti riscattato con successo DIY getting moving un altro codice riscattato con successo poi andiamo a capire che cosa ho riscattato effettivamente setting the stage è un altro codice riscattato con successo anche questo strike a pose questo ricordo assolutamente di averlo già utilizzato ma va bene victory lap riscattato con successo ed infine c'è word il codice non va è live ho dimenticato una lettera riscattato con successo quindi anche questo codice è world alive world alive è il codice usciamo da qui perché abbiamo già fatto e andiamo a vedere effettivamente se abbiamo ottenuto qualcosa o no personalizza ok non mi dice che non ho nulla di nuovo effettivamente probabilmente perché sono cose che già avevo inizio ad avere questo sentimento ok ragazzi erano questi sei oggetti che io già ho ovvero questo zenetto questo mino il cappellino gli occhiali le cuffie e il bastone quindi erano questo cappellino si è buggato Roblox ragazzi mi si è buggato Roblox e continua a muoversi vedete non so perché si è buggato tantissimo ma quindi le cose erano queste cuffie questo cappello ed eccoli qui non si vedono per niente con i miei capelli quindi queste cuffie queste cuffie questo cappello poi avevamo questi occhiali questo mostriciattolo sulla spalla questo zainetto qui e questo qui quindi ecco qui tutti gli accessori questa la si è buggato torniamo indietro perché tanto adesso dobbiamo andare in un altro gioco il prossimo gioco che dovete cercare è questo qui Villa delle Meraviglie deve essere fatto sempre da Roblox e anche qui ci sono cinque codici da riscattare codici che purtroppo io ho già riscattato ma sono più che felice di farvele vedere i codici sono i seguenti Boardwalk codice non valido perché già l'ho riscattato FX Artist questo invece mi dice che l'ho riscattato con successo ma ok Glimmer anche questo mi dice che l'ho riscattato ma già ce l'ho queste cose ma ok poi c'è Particle Wizard codice non va perché ci metto lo spazio ok perché avevo messo lo spazio in quello ok e infine abbiamo Things Go Boom per avere un altro accessorio anche in questo caso potete già uscire dal gioco e questi cinque oggettori dovrei io già averli nel mio inventario e quello è ancora abbagato va bene i cinque oggetti che avete con questi codici sono queste cose che vanno dietro e che sono delle aure due aure la testa slime che sarebbe questa qui che si appoggia sulla testa ma il mio Roblox ha deciso di non funzionare in questo periodo sta dando tanti problemi questo personaggino qui che si appoggia sulla testa che ragazzi è veramente troppo troppo carino poi dei libri che sono sempre un po' come Aura e un altro zainetto quindi questi sono i cinque UGC poi ragazzi se avete Amazon se avete Amazon Prime questo mese c'è il regalo qualcosa per il vostro avatar di Roblox infatti qui ci sono tutte le varie cose che potete avere grazie ad Amazon Prime quindi Amazon Prime Gaming dovete cercare su Google basta che scrivete Prime Gaming vedete ed eccola qui possiamo avere una bella testa orca cliccate su ottieni contenuto di gioco vi darà un codice che purtroppo questo codice è univoco significa che è per una sola persona a ogni persona il codice sarà diverso cliccate sul riscatto ed eccola qui una fantastica testa di orca ok vediamo se adesso va eccola qui oh siamo un'orca un'orca si muove anche fa che suono no questa che carinissima questa qui è carinissima mi piace un botto però vabbè ah ragazzi sono tornata a prendere anche la tela maschera di Cartoon Network quindi mi raccomando andate a riprenderla se vi siete dimenticati di fare l'accesso ed eccoci qua quindi ragazzi fatemi sapere un po' conoscevate questi codici di Roblox conoscevate questi codici segreti di Roblox per avere accessori gratis fatemelo un po' sapere diteci giù nei commenti altri codici se li conoscete così li andiamo a riscattare tutti e nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto cosa state aspettando per diventare dei veri fantastici dreamers trappate qui sul panino e poi sul tastino rosso iscriviti mentre per vedere altri video presenti sul mio canale vi basterà a cliccare qui sulla miniatura io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video e mi raccomando non smettete mai di sognare ciao 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 ciao